Siamo al Trilanzo! Quanti gradi ci sono? 33! Percepiti 56! E' bello umido! Stiamo andando a Pinnauela, cos'è Pinnauela? Quanti ci sono levanti? Siiii! Peccalissimo! Passo tantissimo! Poi non abbiamo paura, vero? Ma siete veramente tanti! Sì! 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 Allora Chloe, vieni qua! Dimmi un po', abbiamo preso la frutta per te? Eh? Sì! Perché l'abbiamo presa questa frutta? Sì! Sì! Per un elefante! Per un elefante? Ce la faremo a dare da mangiare agli elefanti? Andiamo! Ecco che tocca a Chloe! Non c'è! No, no, no! Mi sono... Ecco! Chloe! Ci vuoi provare? No, sì! Vai Chloe, provaci, amore! Ok, 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 ok e poi noi cercano di fare un istantaneo all'elefante guarda l'elefante laggiù che spruzza il rossio di Pinnawella nasce negli anni 70 per accudire i cucci di elefante orfani trovati in tutto il paese e non autosufficienti però negli anni gli animali sono cresciuti e poi si sono riprodotti fra di loro il problema di fondo è che ormai questi animali non riescono più a riadattarsi all'ambiente e alla foresta circostante e quindi la loro sopravvivenza è completamente nelle mani e quindi oggi il governo cingalese per far fronte al mantenimento di questi elefanti fa pagare un biglietto di ingresso turistico direi abbastanza elevato a 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